Ciao! Ciao! Come stai oggi? Sto molto bene! Dove città tu vivi in Italia? Io vivo in Sicilia! Io vivo in una distante città. Sabe tu Nimbin città? Che città? Nimbin! Certo! Sono stata a Nimbin! E' bellissima! Oh si! Dove tu viaggiare in Vietnà? Ok! Sono partita da Ho Chi Minh! Dal sud verso nord! Oh! Che città ti piace? Più mi piace! Fogna? Oh si! Perché? Le montagne! Oh si! E' tutto verde e bellissimo! Ah bellissimo! Si! Tu viaggiare molto in Europa? Europee! Si! Viaggio di più fuori Europa! Si! Italia è un paese delle scarpe! Della moda? Si! Del cibo? Ah! Potremmelo la pizza! 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 Spaghetti! Pasta! Vi piace la pizza? Oh! Mi piace molto! Prefetto! Preferisci la pizza o la pasta? Pizza! Pizza! Si! Esatto! Che... Che le mangi normalmente in collagione in tuo paese? Un cornetto con un caffè! Caffè! Oh! Caffè anche? Caffè! Single espresso! Oh! Si! Bene! Quanto tempo hai stato qui in Vietnam? Un mese! Un mese! Oh! Tu viaggiare solo a Vietnam o un altro paese in Asia? Come cosa hai detto? Sono partita dalla Thailandia... Thailandia, sì! Thailandia, Lao, Cambodia e Vietnam! Oh, sì! E ora torno a casa, in Sicilia! Oh! Sì! Che... che penso... sopra la... ci... ti piace il ci... Mi piace tantissimo... Il cibo qua è buonissimo! Martiamolo! Noodles? N physicians. Sì! La... La suppa! Si! Su, 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 zuppa o carne, pure la carne buona, ma devo ancora provare il caffè con l'uovo. Sì, come questa verdura? Molto buona, mi piace. Oh, sì, sì, in Vietnam è molto famoso, caffè con l'uovo, come si dice? Caffè con l'uovo, sì, non l'ho ancora assaggiato. Sì, sì, sì. Come tu mangi in cena? Normalmente. In Italia? Sì, in Italia. Mangio a pranzo la pasta e la sera verdure o insalata. Insalata, sì, oh, sì, sì. Tengo una domanda, come, quale lingua conosci? Tre. Tre, è italiano. Italiano, spagnolo e inglese. Come è la vietnamità? Oh, difficile. Difficile. Sono solo mui, u, he, no, ui, tui, mun, hai, fu. Yeah, mun, hai, fu, yeah. Bene, sì. Dove imparare inglese? Con te. Con te. Ho imparato questo con te. Ah, sì. E come sei spagnolo? Vivevo con due ragazzi spagnoli. Sì, sì. Tu vuoi viaggiare in Spagna? Ho viaggiato in Spagna e a maggio vado di nuovo in Spagna. Oh, sì. Perché tu vuoi viaggiare in Spagna? No visa. No visa. Oh, sì. No visa. Molto utile. Eh, per viaggiare qua ho bisogno della visa, claro. Sì, sì. Non ho sorelli, ho fratelli, fratelli. Non ho fratelli. Non ho fratelli, sì. Tu hai sorella? Sì, ho sorella. Io ho due sobrini. Ho due sobrini. Sobrina? Una sobrina, sì. E uno sobrino. Do sobrina, sì, un sobrino. Esatto. Io ho tio. Tu tio. Sì, tio. Zio in italiano. Zio. Zio in italiano. Oh, sì. Io non sono zia. Ah, sì. No zia. No zia. Ah, in futuro. Chi lo sa? Sì, sì. E che penso sopra il traffico? Oh! E a Ho Chi Minh è peggio. A noi it's ok, ma in Ho Chi Minh c'è troppo traffico, è una città troppo busy, piena di gente. Preferisco a noi che a Ho Chi Minh. A noi è meglio il traffico. Sì. A noi è meglio. Sì, molto motobike. Come si dice motobike? Scooter. Scooter. Oh, motorino. Motorino. Però in tuo paese è molto più... Sì, hai più traffico. Traffico, sì. E che pensate sopra il clima? E sta bene? Sì. Sì. Non fa caldo, non fa freddo. A Ho Nai? A... A Ho Rai. A noi. Sì, non fa freddo, non fa caldo. Sì. Al sud faceva molto caldo. Sì, molto caldo. Perché nel sud è vicino. 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 Bravo. Sì. E in Hanno è quattro temporane. Sì. Sì. Il momento è primavera. Primavera. Sì. Quando è estate ad Anoi? Estate. Estate? Summer? Ah, estate. Mai. Più, più, due messe. Marzo, aprile, maggio. 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 Maggio, sì. Maio. Maggio, sì. Summer. Summer time. Ti piace quando tu viaggiare? Ti piace solo viaggiare solo o con tu amici? Preferisco viaggiare da sola. Sola, sì. Perché? Perché conosco più persone. Ah. Quando viaggi in gruppo, parli in gruppo e non conosci le altre persone. Sì. Quando viaggio da sola conosco più persone. Sì. Come è successo con noi? Sì. Ero da sola e voi vi siete fermati a parlare con me. Esatto. 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 Mi è molto importante viaggiare abbiornamente. Parli benissimo italiano e spagnolo. Perché? Perché parli molto bene. Mi piace il film padrino. E il radiatore. Sì. È molto famoso. Eh sì. Lo hai visto? Sì. E pericola. Come si dice? E film? Film. Pericola in spagnolo. Sì. Sì ma in futuro tu vuoi imparare, per esempio, lingua nuova. Parli già quattro lingue? Tu. No, tu. Ah no, in futuro tu vuoi imparare più lingua? Può essere? Perchiamolo, che lingua? Il tedesco? No. Ah no. È molto difficile il tedesco. Sì. Il francese? Francese, sì. Francese? Sì. Molto, molto francese viene, il turismo. Hai tanti francesi qui in Vietnam. Sì, sì. Tu vuoi imparare il francese? Un po'. Sì? Io parlo un po' il francese. No, io parlo il francese. Sì, esatto. Sì, sì. Siamo... Ciao. Siamo... Domani dove tu viaggi... Vai. Sì. Domani vado a Bangkok. Bangkok, sì, sì. Rimango una settimana a Bangkok. Sì. Sì, con l'avion. Con l'avion. Con l'avion. Con l'avion. Sì. Quanto tempo vuoi volare per l'Europa e l'Asia? Dodici ore. Ah, una direttamente. Sì. Oh, sì, sì. Però va a Bangkok. Ah, Bangkok, sì, sì. Bangkok, Milano, Nord Italia. Ah. E va a Milano, Sicilia. Milano, non te. Nord. Sì, sì, sì. Come si dice, Turin. Juventus, Turin. Forza Juventus. Sì, sì. Io vedo internet, come si dice, frantesi, fiorentina. Fiorentina. Ah, sì. Firenze, Firenze. Ah, Firenze. Firenze, blanco e violenze. Sì, sì. Firenze in sud o nord? Nord. Ah, nord, sì. Sì, è vietnamese, tam ang khe, lang khan sui, come si dice, lang khan sui. Eh, grande città. Ah, grande città. Ah, Italia tam ang khe. Eh, grande paese. Ah, grande paese. Sì, brema. Italia? Sì, sì, grande. È grande. Sì, hai stato, visitato in sud America? Sì, sono stato in sud America. Oh, che c'è il paese? Peru? Peru, Machu Picchu. Machu Picchu, bravo. Bolivia? Bolivia. La Paz? La Paz. Sì. San Arveioni. Sì. E Cuba. Cuba. N'Abanà. Havana. Grande. Sigarros. Grande sigarro. Pieden Castro. Pieden Castro. Come, come, Argentina? Nunca? Non ancora. Sì. Però voglio andare in Argentina. Sì. Sì. Molto presto. Sì. Però la gente in suona di qua parla spagnolo. Sì? Sì. Tu, come si dice, tu capis, tutto. Sì? Oh. Sì? Habla in sud America, però io posso entenderlo. Oh. Sì, si piace molto. Sì, no problemi. No? Oh sì, molto utile. Tu pure puoi parlare spagnolo. Sì. Claro? Sì. Un momento. Claro? Sì, tu parla spagnolo, mi amico, mi amica. Oye. Oye. Come si dice in italiana? Scarpa. Scarpa. Ah, scarpa. Ah, quanto tempo tu aprendes spagnolo? No, molto tempo. No, no. No tanto. I will say 5 mesi. 5 mesi, oh, yeah. Ma l'italiano e il spagnolo, l'italiano con lo spagnolo è molto simile. Ah, sì. Come si dice in catalan. Come, no. Catalan. Cataluña. Sì. 5, 6 mesi. 5 mesi, sì, sì, sì. L'inglese di più, un anno. Ah, inglese. Sì. In... Tu piensi che entri spagnolo e inglese, che lingua più... Spagnolo. Preferisci. Prefisci. Preferisco lo spagnolo. Sì, spagnolo. Sì. Sì. Ma mi piace lingua spagnola anche. Sì? Però la gente lo ha parlato molto rapido. 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 Tu preferisci l'inglese o lo spagnolo o l'italiano? Sì, un po', un po'. Qual è la tua lingua preferita? Ah, un momento è italiano. Italiano. Italiano? De amor. Amor lingua. Sì? Sì, sì. 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 E... Sì. E... Spagnolo la gente è molto rapido. Muy rapido. Per essere difficile capirlo. Capirlo, sì. Esatto. Sì. Però capisci abbastanza. Bravo, bravo, bravissimo. Grazie mille. Ok, come ti chiami? Mi chiamo Miriana. 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 Laida. Sì. E tu come ti chiami? Mi chiamo Hai. Hai? Mi chiamo... Significa la... La plaza. Come si dice? Parola. Parola. La plaza. E spiaggia? Piaggia, piaggia in italiano. È in serio? Sì. Por ejemplo, Hanoi significa centro... dentro del rio. De rio. Hanoi centro dentro del rio? Sì. Sì. Uy, non lo sabia. Porque todo nombre in Vietnam significa algo. Ok. Fuerte. Significa fuerte. Fuerte. Sì. Sì. E tu come te llamas? Mi nombre es Mai. 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 Sì. Significa fuerte. Fuerte. Mai. 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 Mai fuerte. Fuerte. Forza Italia. Forza Italia. Forza Italia. Quanti anni hai? Ah, 26 anni. 26? Sì. E tu? 25. Ah, 5. 25 a maggio. Tra due mesi. Sì. Sì. 24. 24 finora. Fra due mesi 25. Sì, sì. Sì. Siamo young. Siamo young. Sì. Anche tu? 26. Siamo young. Sì. Siamo young. Young, fuerte e belli. Sì. Bella. Dena. Belli. Belli. Tu sei bello. Tu sei bello. Tu sei bello. Sì. Grazie mille. Grazie a voi ragazze. Buon viaggio. Buon viaggio. Buon viaggio, grazie. Buon giornata. Ciao ciao.